Ma guarda, scommetto che non stavi filmando. Sì, sì. Ciao! Jacopo! Ora vuole arrivare lì, stai vedere. Ora è dura. Lì si muove per la fase. No, vedè che fa un passetto alla volta. Ora è in crisi. È in difficoltà, è in difficoltà. Vieni. È in difficoltà, vedi? Stai attento però, eh. Sembra il collato. Eh sì? Spider-Man. Che bello, vedi? Uno è qua? Quattro... Che bello. Questa viene di sopra. Sì, sopra la barba. Ti faccio lo scadino. Tieni, tieni lo scadino. No. Vai, vai. No. Che bello. Che bello. È sulla tavola la farpa. Oh! Si si gira a guardare, c'è. Jacopo! Eh eh.